Domani, 29 giugno 2016, ci sarà la camera ardente per ricordare e per l'appunto rendere l'ultimo omaggio al grande attore Bud Spencer, Alan Agrafe, Carlo Pedersoli. Perché si fece chiamare Bud Spencer, perché era un grandissimo ammiratore del grande attore americano, Spencer Tracy. Dunque, ieri 27 giugno 2016 è morto questo grande attore italiano, mi ricordo che il generale di Napoli si è un po' derrato, e domani a Campidoglio, dalle ore 10 alle 19, nella sala della Proto-Moteca, in Campidoglio ci sarà questa camera ardente. Cosa significa camera ardente? Significa che il corpo viene esposto, quindi il generale viene esposto in questa sala per rendere omaggio a questo grande e indimenticabile artista, che ha utilizzato la sua capacità per rendere veramente migliore la cinematografia e la tv italiana in solo. Grazie per l'ascolto e vi vi ho detto al final qua un saluto.